salve eccoci qua al consueto approfondimento che anche questa volta prende spunto da una delibera dell'autorità nazionale anticorruzione recente che affronta il tema delle inconferibilità e noi con questa occasione affrontiamo anche il tema del pantuflage o revolving doors anche soltanto per analizzare le differenze fra i vari istituti e i vari termini utilizzati uno francese uno inglese uno italiano e vedremo a cosa si riferiscono e quanto sono importanti nel nostro sistema e nel nostro ordinamento intanto se avete quesiti ovviamente formulateli già in diretta vi ho lanciato un sondaggio per sapere quanto insomma conoscete di queste materie spesso di nicchia nate dal contesto della normativa anticorruzione tutte figlie della legge severino quindi che ancora nonostante siamo quasi siamo ai dieci anni della legge e quasi ai dieci anni delle norme di attuazione ancora stentano ad essere applicati e hanno significative criticità quindi vedremo anche le criticità di questa normativa nel frattempo io vi segnalo il link dove potrete scaricare il materiale che sto commentando intanto lo troviamo anche nel codice di comportamento il pantuflage sì certamente si trova anche nel codice di comportamento e lo vedremo fra il materiale che vi metto a disposizione mi raccomando al link che vi ho messo registratevi dopo la diretta su quella community perché potete fare quesiti domande è gratuita e contiene molti approfondimenti per i registrati quindi vi consiglio di effettuare la registrazione inoltre chi di voi volesse mettere like a questa diretta è molto gradito e apprezzato allora stiamo parlando della delibera numero 550 del 16 novembre 2022 fascicolo 1918 di anac oggetto ipotesi di inconferibilità dell'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico comunale quinto settore lavori pubblici e patrimonio presso il comune di omissis ovviamente i provvedimenti anac per rispetto della privacy non contengono riferimenti né all'ente né alle persone per appunto evitare poi indirettamente di riconoscerle ma a noi interessa il principio non tanto i soggetti e i provvedimenti anac sono anche fatti bene perché vedete contengono l'oggetto molto sintetico i riferimenti normativi applicabili articolo 4 comma 1 lettera c decreto 39 che non è l'unico ma è il principale le parole chiave inconferibilità esercizio di attività professionale stabile e continuativa incarico dirigenziale esterna vedete quasi come fosse un'indicizzazione per motori di ricerca e poi il contenuto del provvedimento sono adottati secondo una tecnica non eccezionale diciamo non completa ma comunque utile di semplificazione del linguaggio amministrativo vediamo allora che cosa ci dice l'autorità e che cosa possiamo ricavare da questo provvedimento l'anac nell'ambito dei suoi poteri ispettivi cosa ha fatto ha analizzato l'incarico del responsabile dell'ufficio tecnico quinto settore lavori pubblici e patrimonio affidato con decreto del sindaco 16 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 110 comma 1 quindi un incarico esterno un professionista che viene dal privato che il sindaco nomina responsabile dell'ufficio in questo caso titolare di posizione organizzativa in particolare l'ipotesi di inconferibilità cosa significa inconferibilità viene dal latino non in negativo conferire non ti posso conferire l'incarico quindi questo è un incarico conferito che vedremo anac contesta potesse essere conferito perché perché c'è una normativa decreto 39 del 2013 come detto decreto di attuazione della legge delega severino che contiene nell'ipotesi in cui non si può diventare dirigenti della pubblica amministrazione o posizioni organizzative ok in particolare l'ipotesi deriverebbe dalla circostanza che l'omissis cioè il nominato avrebbe svolto diversi carichi incarichi professionali a favore del comune nei due anni antecedenti l'assunzione di incarico di responsabile intanto saluto Elena che si è abbonata al canale youtube e che ringrazio in particolare anche per averlo fatto in diretta quindi testimonianza dell'apprezzamento grazie dicevo attenzione l'inconferibilità due anni precedenti vedremo la differenza con il pantuflage quindi siamo nell'ipotesi nel quale il divieto riguarda l'amministrazione lente lente non può mettere in quel ruolo una persona che nei due anni precedenti ha avuto incarichi dall'amministrazione per poter verificare se ci fossero le ipotesi di pantuflage l'autorità l'anac ha inoltrato richiesta dichiarimenti all'rpct il responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza chi di voi ha seguito la mia lezione sull'anticorruzione sa che io definisco il responsabile della prevenzione come la longa manus dell'anac così come il dpo è la longa manus del garante privacy cioè è il rappresentante dell'anac presso lente ma in realtà ha una doppia veste è il punto di riferimento dell'anac in positivo cioè svolge funzioni di controllo anticorruzione ma anche in negativo cioè poi deve rispondere di ciò che ha fatto in termini di controllo allora l'anac chiede al responsabile che è tenuto a fornire le informazioni appena la sanzione come è andata l'11 maggio gli manda una lettera il 17 di giugno il responsabile risponde chiarendo che nel corso del 2021 poiché era stato revocato il precedente incarico 110 lente si trovava privo di responsabile e avviato una nuova procedura procedura a cui ha partecipato un solo professionista e questo già salta diciamo agli occhi sicuramente dell'autorità di controllo il quale aveva svolto vari incarichi per il comune e vedremo quali nel 2020 direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nel 2020 direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza una volta per una una villa comunale una volta per un marciapiedi poi interventi di ripristino opere servizi igienici presso l'auditorio in comunale sistemazione dell'area dell'auditorio in comunale in più dall'esame del curriculum sono emersi altri incarichi che il responsabile dell'anticorruzione si era dimenticato di fornire o non aveva agli atti 2018 2021 presidente della commissione comunale locale del paesaggio coordinatore della sicurezza progettazione esecutiva direttore dei lavori di altre opere insomma una decina quindicina di incarichi per questo comune a seguito dei chiarimenti forniti l'autorità il 29 luglio quindi vedete un mese un mese un mese insomma le procedure di accertamento non sono istantanee comunicava ai soggetti interessati l'avvio del procedimento cioè dai dati forniti ritiene che ci siano elementi idonei per poter contestare l'inconferibilità attenzione l'anaca non ha deciso è c'è tutta una procedura garantista per cui ti chiedo chiarimenti mi fornisci chiarimenti ritengo che ci sia qualcosa che non va ti avvio il procedimento così che tu ti possa difendere e il segretario comunale attenzione ecco la doppia veste mentre nella prima veste è la longa manus dell'anaca cioè aiuta l'anaca a fare indagini qui si trova nella parte opposta si deve difendere deve giustificare perché il suo ente ha fatto questo quindi il segretario comunale inviava una memoria difensiva con la quale chiedeva l'archiviazione a seguito di ulteriori procedimenti istruttori è emerso che il dirigente è stato confermato anche dopo l'avvio del procedimento come titolare di posizione organizzativa con provvedimento del gennaio 2022 bene considerazioni in diritto quindi questi sono i fatti come sono accaduti vediamo l'anac come le ricostituisce come le ricostruisce intanto l'ipotesi di inconferibilità dell'articolo 4 io vi riporto il testo dell'articolo 4 del decreto 39 che dice a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprie attività professionali se queste sono regolate finanziate o comunque ritribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico non possono essere conferiti a gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni b gli incarichi di amministratore di ente pubblico c gli incarichi dirigenziali esterni comunque denominati nelle pubbliche amministrazioni cioè se vinci il concorso va bene ma non l'incarico diretto da parte del sindaco decreto 39 2013 articolo 4 veniamo cosa dice l'anac l'articolo 4 l'abbiamo letto la razio sottesa razio termine latino che vuol dire la motivazione che sta alla base della disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscono al solo fine di perseguire e massimizzare l'interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l'azione amministrativa questa è la regola generale dell'inconferibilità tuttavia il responsabile anticorruzione del comune ha contestato tale ricostruzione sostenendo che l'articolo 4 riguarderebbe solo i soggetti che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato cioè la tesi difensiva è non riguarda gli incaricati dalla pubblica amministrazione quindi gli soggetti che hanno incarichi di collaborazione o appalti di servizi della pubblica amministrazione ma solo chi ha un incarico privato finanziato dalla pubblica amministrazione questa tesi si fonda su alcuni diciamo aspetti letterali io vi lascio a voi la lettura non sto entrando nel dettaglio che effettivamente diciamo la norma non chiarisce la norma non è scritta bene per cui sembrerebbe con quel ovvero con quel che con le congiunzioni è una frase molto lunga l'abbiamo vista a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziate dall'amministrazione dell'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprie attività professionali se queste sono regolate finanziate o comunque ritribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico vedete frase molto lunga con molte subordinate la tesi è questa fondata anche su aspetti molto letterali questi ultimi eccetera eccetera ritiene il responsabile che una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale ebbene tali contestazioni interpretative oggetto di attento scrutinio analisi da parte dell'autorità non appaiono accoglibili in questa sede quindi l'anac dice non hai ragione uno la norma dell'articolo 4 prevede due ipotesi di inconferibilità in quanto rette dall'ovvero sapete che l'ovvero non va mai usato nelle norme ovvero in italiano può avere carattere disgiuntivo o congiuntivo anac dice qui a carattere disgiuntivo cioè la norma prevede quale causa ostativa all'assunzione l'aver svolto in carichi e cariche presso enti regolati o finanziati dalla pia prima ipotesi la seconda è il requisito di provenienza l'aver svolto attività professionale in proprio e se queste sono regolate o finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione tanto premesso la norma non lascia margini di dubbio in merito all'individuazione del beneficiario delle attività professionali prevedendo chiaramente quale incarichi in destinazione lo svolgimento proprio di attività professionali per l'ente infatti già con l'orientamento 99 del 2014 quindi otto anni fa io anac avevo già chiarito questo aspetto e ho sempre tenuto questa tesi non solo andiamo più avanti questa tesi è confermata dal tar lazio sentenza 51 88 del 2020 cogliamo l'occasione per ricordare che i provvedimenti delle autorità nazionali come anac sono impugnati in primo grado al tar del lazio sempre qualunque sia l'amministrazione di riferimento quindi il tar lazio ha chiarito respingendo un'analoga doglianza proprio sul concetto di incarico conferibile e ha dato ragione ad anac dunque alla luce di quanto esposto a parere di questa autorità non vi sono dubbi sul fatto che l'inconferibilità del comma 1 dell'articolo 4 si applichi anche nei confronti di coloro che svolgono attività professionale a favore della pubblica amministrazione la quale poi dà proprio a loro il l'incarico di responsabile tanto doverosamente premesso a fronte delle doglianze di controparte gli elementi costitutivi della fattispecie sono dunque due quindi quando è che si ha inconferibilità primo l'aver svolto nel periodo di raffreddamento il periodo di raffreddamento sono i due anni precedenti periodo nel quale non dovresti coinvolgere questi soggetti attività professionale con queste caratteristiche 2 assumere nel periodo di raffreddamento un incarico dirigenziale esterno quindi andiamo a vedere se nel caso concreto ci sono tutte e due le condizioni prima condizione dalla attività istruttoria è emerso che nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico l'omissis ha ricevuto il conferimento di diversi incarichi esterni presidente della commissione del paesaggio coordinatore della sicurezza quindi una serie di incarichi significativi l'amministrazione si è difesa dicendo beh questi incarichi erano solo in totale un 21 mila 25 mila euro il 2 per cento del il 5 per cento degli incarichi dati dall'amministrazione in generale tanto rappresentato mentre l'anac dice posso accettare che la presidenza della commissione del paesaggio non sia ostativa perché perché riguarda l'edilizia l'urbanistica non i lavori pubblici e il patrimonio quindi quella non la prendo in considerazione ma tutti gli altri sono lavori pubblici quindi si ritiene di non poter condividere la tesi del responsabile anticorruzione sull'insussistenza di un rapporto continuativo in particolare si evidenzia che sebbene questa autorità riconosca le criticità di applicazione delle disposizioni del decreto 39 attenzione a questo passaggio interessante sebbene questa autorità riconosca le criticità di applicazione delle disposizioni del decreto 39 ai piccoli comuni così come sollevate dal responsabile quindi una una difesa intanto attenzione al gatto sì una difesa una delle difese era nei piccoli comuni non si può fare diversamente non si trovano professionisti per fare incarichi allo stato normativo attuale la lettera della norma non prevede limiti per i comuni più piccoli cosa che avviene in altri contesti chi di voi mi segue o studia il diritto amministrativo sa che abbiamo norme diversificate comuni sotto i mila abitanti sotto i 3 mila abitanti sotto i 5 mila abitanti sotto i 15 mila abitanti abbiamo varie soglie sopra o sotto le quali scatta una normativa diversa non è così sull'inconferibilità nell'arco fra il 2019 e il 2021 il periodo di raffreddamento risulta obiettivamente conferita al professionista una molteplicità e pluralità di incarichi secondo aspetto con determinazione del 2021 il sindaco ha conferito la pio a tempo determinato e parziale al responsabile dell'ufficio tecnico tale incarico di posizione organizzativa è considerato un incarico inconferibile ai sensi dell'articolo 1 comma 2 infatti dice la norma tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali si è conferita la responsabilità di un servizio ad un ufficio sono rientrati nel decreto 39 del 2013 a conferma della natura dirigenziale poi ho letto il decreto del sindaco e il decreto del sindaco ai sensi degli articoli 107 e 109 del tuel che sono incarichi dirigenziali attenzione anche se la qualifica non è dirigenziale rapporto di servizio ma il rapporto d'ufficio è dirigenziale altro aspetto attenti il professionista quando ha assunto l'incarico ai sensi del decreto 39 ha dichiarato che non era nelle situazioni di inconferibilità rimetto a voi le conseguenze di questa dichiarazione perché fermarestando ogni altra responsabilità la dichiarazione mendace accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto difese del contraddittorio comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di cinque anni quindi questa è una sorta di sanzione accessoria per chi ha dichiarato di essere in regola e poi risulta non essere in regola come è questo caso occorre pertanto che l'amministrazione svolga le ferifiche di propria esclusiva competenza in merito alla suddetta dichiarazione ai sensi del comma 5 tradotto a per inviare alla procura per l'ipotesi di falsa dichiarazione in atti è comunque un'autocertificazione potenzialmente falsa b comunque a prescindere dalla falsa dichiarazione penalmente rilevante per il conseguente periodo di cinque anni di inconferibilità poi lo vedremo perché sarebbe paradossale che adesso alla fine del 2022 l'anac dichiari inconferibile nel frattempo è passato un altro anno e mezzo e quindi non c'è più la inconferibilità in realtà vedremo che i due anni di raffreddamento sono sospesi dal procedimento anac quindi durante il procedimento non opera il periodo di raffreddamento quindi che si allarga quindi in ogni caso anche se non avesse dichiarato il falso ripartirebbe il periodo di due anni infine si ricorda il principio deliberato dall'anac con la delibera 445 del 2000 ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento occorre considerare il concreto distanziamento temporale pertanto nel computo il termine sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo il tempo riprende al decorre dalla cessazione dell'incarico inconferibile quindi hai ottenuto dall'amministrazione un incarico inconferibile ce l'hai ancora partono da ora i due anni su tale principio si è espresso il tarlazio con la sentenza 12.999 quindi anche questo aspetto è ormai giurisprudenza del tar tutto ciò premesso e considerato tanto mi viene detto cornuto e ammazziato il tecnico non tanto diciamo questo tecnico era un part time e quindi ha la sua libera professione svolge la sua attività professionale fra l'altro dall'istruttore emerge anche per più comuni quindi insomma dovrà fare altra attività ha preso lo stipendio quindi durante il periodo comunque ha svolto una prestazione lavorativa che gli venerà riconosciuta durante questo periodo tutto ciò premesso l'ANAC delibera l'inconferibilità dell'incarico con conseguente applicazione dell'articolo 17 del decreto l'articolo 17 prevede gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e relativi contratti sono nulli quindi la nullità del contratto secondo di rimettere a lette conferente l'accertamento della competenza nel rispetto delle disposizioni articolo 20 5 anni di inconferibilità di rimettere la valutazione dell'elemento soggettivo circa le false dichiarazioni in ogni caso il responsabile dell'anticorruzione dovrà comunicare al soggetto a cui è conferito l'incarico la nullità contestare l'inconferibilità a tutti i soggetti che hanno conferito l'incarico perché l'articolo 18 del decreto stabilisce delle sanzioni i componenti degli organi che hanno conferito gli incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati quindi devono responsabilità contabile essendo nullo il contratto il soggetto ha svolto una prestazione avrà avuto un corrispettivo quel corrispettivo dovrà essere pagato dal sindaco in questo caso che ha conferito l'incarico sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione nonché dissenzienti e gli astenuti i componenti degli organi che hanno conferito incarichi nulli non possono per tre mesi conferire incarichi quindi rimani senza titolare di posizione organizzativa i comuni entro tre mesi eccetera eccetera e questo è diciamo il quadro sul quale poi il responsabile anticorruzione è tenuto a vigilare perché dovrà comunicare ad ANAC che cosa ha fatto per far attuare questo provvedimento come vedete dirompente allora abbiamo visto l'inconferibilità articolo 4 decreto 39 due anni questo è la diciamo in sintesi la norma che cos'è allora il pantuflage o il revolving doors siamo in un'altra disposizione molto simile che è contenuta nel testo unico del pubblico impiego decreto 165 del 2001 articolo 54 il quale recita i dipendenti attenzione l'inconferibilità riguarda l'esterno che entra nell'amministrazione due anni i dipendenti quindi chi è nell'amministrazione che nei tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pia non possono svolgere nei tre anni successivi quindi l'inconferibilità guarda al passato il pantuflage o revolving doors guarda al futuro attenzione pantuflage revolving doors sono sinonimi sono la stessa cosa pantuflage termine francese che deriva dall'abitudine dei militari della scuola nazionale quindi della pubblica amministrazione francese una volta terminato il militare di ricevere incarichi dalle aziende private con cui magari avevano comprato armamenti e revolving doors che è la versione anglo americana dello stesso principio negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto d'impiego quindi non sono più dipendente pubblico perché smetto di fare la pio il funzionario vado in pensione vado a lavorare nel privato non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione quindi non posso andare nell'azienda privata che ha svolto attività quindi vedete molto simile ora nel caso che abbiamo visto questo soggetto svolgeva attività per la pubblica amministrazione quindi è amministrazione su amministrazione mentre il revolving doors è l'incompatibilità verso il privato per cui certo se facevo il dirigente dell'ufficio tecnico del comune vado a fare il dirigente dell'ufficio tecnico della regione il problema non si pone fra pubblico e pubblico non si pone il problema di pantuflage o revolving doors i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto di vieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'amministrazione per tre anni quindi stessa sanzione simile cioè tu che hai preso il dirigente della pubblica amministrazione che lavorava ai lavori pubblici che ti ha dato un appalto gli hai dato un incarico dopo che ha smesso di fare il dirigente per tre anni non potrai più avere appalti dalla pubblica amministrazione e dovrai restituire i compensi e il dirigente dovrà restituire i compensi percepiti capite che il pantuflage revolving doors è più difficile da controllare perché mentre quel segretario comunale avrebbe potuto controllare il sindaco che dava un incarico 110 a un professionista del territorio che aveva già degli incarichi qui io devo andare a vedere un pensionato dopo che è andato in pensione cosa fa nella sua vita non è che ce lo ha gli atti ok quindi il controllo sul pantuflage revolving doors è estremamente difficile per la pubblica amministrazione diciamo che nell'era dei social network nei comuni medio piccoli dove conosco il territorio un pochino più facile perché insomma le voci le dicerie i concorrenti nemici insomma tu vai in un'azienda privata quindi togli il lavoro a qualche altro professionista e in questo il controllo civico il controllo da parte del cittadino è fondamentale il whistleblower il funzionario o il dipendente di quel dirigente che durante gli ultimi anni di servizio lo ha male e poi questo dirigente va a ricevere incarichi da un'azienda privata beh si può vendicare whistleblower segnalando il pantuflage revolving doors anzi è un invito a fare infatti busi ha proposto una riforma a questo tema perché è troppo generico e infatti adesso lo vediamo alfonso molto attente molto puntuale mi ha anticipato lo anticipo a mia volta fascicolo anac delibera 225 del 2022 procedimento sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni articolo 53 come da parte del presidente in un'autorità portuale dove si segnalano alcune criticità nell'applicazione del revolving doors così come nel atto di segnalazione del 27 maggio 2020 concernente proposte di modifica alla disciplina del pantuflage norme sull'ordinamento della pubblica amministrazione con cui al parlamento si dice attenzione queste disposizioni contengono delle criticità proprio sono scritte male contengono dei dubbi interpretativi intervenite per modificarle visto che sono centrali importanti per il controllo sull'attività politica e tecnica ad oggi il parlamento non è intervenuto tutti questi documenti come vi dicevo li avete a disposizione al link che trovate nella chat vi ricordo che una disciplina del pantuflage o simile al pantuflage è contenuta nell'articolo 6 del codice di comportamento il dpr 62 2013 il codice nazionale di comportamento fermo restando gli obblighi di trasparenza previsti da legge regolamenti il dipendente all'atto dell'assegnazione all'ufficio informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti diretto e indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni questo per consentire il controllo che abbiamo visto esserci di inconferibilità attenzione e non solo di conflitto di interessi però attenzione alla differenza mentre io ho l'obbligo di comunicarti gli ultimi tre anni ai fini dell'inconferibilità valgono solo gli ultimi due anni ok si chiedono gli ultimi tre anni perché ai fini del conflitto di interessi non esiste un limite temporale cioè mentre esiste per l'inconferibilità io sono in conflitto di interessi anche se il rapporto è precedente ai due tre anni ok bene e questo è il quadro viene sanzionato solo il sindaco o il segretario a conseguenza intanto il conferimento è dato dal sindaco quindi l'organo il cui atto è nullo è il sindaco sapete che gli atti del sindaco non sono soggetti a parere di regolarità quindi non c'è una responsabilità automatica diretta di un organo tecnico funzionario o sì o segretario certamente il segretario organo di assistenza e consulenza giuridico amministrativa quindi la corte dei conti chiamerà sicuramente il sindaco a rispondere del danno erariale prodotto da aver conferito un incarico dichiarato nullo e potrebbe coinvolgere anche il segretario nella sua omissione grave qualora ritenga che ci sia una grave omissione e in questo quando l'anac segnala che il segretario non ha trasmesso tutti gli atti ma dal curriculum non esistevano altri sembrerebbe alludere a questa possibilità ma sarà una vicenda che non è di ora visto che questa è troppo recente tutti gli atti l'anac li trasmette alla procura della corte dei conti quindi la procura della corte dei conti avvierà sicuramente un'istruttoria per verificare l'attivazione del procedimento contabile chi di voi ha seguito i commenti che ho fatto di recente sa insomma a cosa mi riferisco io vi ringrazio per aver seguito questa diretta chi di voi è in diretta e vorrà seguire fra poco alle 19 un'altra diretta questa volta diversa sui quiz e chi lo sta seguendo registrato può andare sul mio canale youtube per guardare i vari quiz chi volesse può anche seguire molto di questo materiale sul nuovo strumento diciamo che trovate a disposizione sia il canale instagram che il canale tik tok diciamo per diciamo strumenti più moderni più giovanili di scambio di informazione però che veicolano anche iniziative di questo genere vi metto il link a disposizione vi ringrazio vi saluto e ci vediamo la prossima arrivederci